Ciao, in questo video ti racconto di come una semplice e piccola modifica ad un ventilatore ha permesso di ridurre diciamo del 50% i fermi di impianto e le revisioni dovute proprio a guasti su questo ventilatore. Il ventilatore di cui sto parlando è questo qua dietro di me, come vedi è un classico ventilatore a tappo, ovvero c'è la girante di sotto, quello verde è quello che viene chiamato tappo che si innesta sul forno e va a chiudere il buco che c'è per far passare la ventola. Come vedi adesso c'è un altro pezzo verde, vi avvicino un po' così lo vedi meglio, e sopra un motore, in questo caso con un accoppiamento tramite un giunto meccanico, vedi qui giunto, motore, e quello che vedi qua sotto è il supporto monoblocco, cioè la carcassa con dentro i cuscinetti e l'albero. E questa è proprio la modifica che è stata fatta, perché? Perché inizialmente questo ventilatore aveva il motore direttamente installato qua sotto, con l'albero che attraversava tutto il tappo e sotto la girante, il che vuol dire che quell'albero del motore era soggetto al riscaldamento dovuto al calore che da dentro il forno tramite la girante passava sull'albero. Questo calore dove finisce? Finisce ovviamente su i cuscinetti, i cuscinetti di un motore che già di suo sono molto scaldati dal funzionamento stesso del motore elettrico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lavorando in condizioni di temperature più elevate e soprattutto magari con qualche squilibrio sulla girante, che i motori non sono proprio ideati per subire questo tipo di funzionamento. Ogni mediamente 10-11 mesi il ventilatore andava in blocco, si rompeva perché il motore a un certo punto i cuscinetti si surriscaldavano talmente tanto da gripparsi. Quindi ormai dieci anni fa questo mio cliente ha iniziato, ha una serie di questi ventilatori, ha iniziato a fare questo tipo di modifica, chiedermi di fargli questo tipo di modifica sul mio suggerimento. Nel senso abbiamo iniziato con il primo, giusto per fare una prova, e abbiamo messo questo supporto monoblocco proprio, questo albero intermedio che separa il motore elettrico dal calore che c'è sotto. Ovviamente anche in quel caso i cuscinetti si vanno a surriscaldare, però è possibile su un albero intermedio mettere una ventola di raffreddamento, che è una ventolina piccola in alluminio, che aiuta a disperdere il calore dall'albero e evitare che vada sul cuscinetto. Abbiamo fatto questa prima modifica su un ventilatore, come ti dicevo prima, e per due anni nessun problema. La macchina è andata avanti, mentre gli altri continuavano a rompersi. Al che il mio cliente ha capito l'antifona e mi ha detto, senti, adesso un po' alla volta, man mano che mi si rompono, te li porto lì. Questo è l'ultimo di quella lunga serie che abbiamo modificato con questa aggiunta di quest'albero, riducendo veramente, abbiamo raddoppiato sostanzialmente il tempo di vita della macchina e quindi ridotto di metà i fermi legati a rotture e quant'altro. Anche perché le rotture sui cuscinetti non è che avvengono quando vuoi tu, durante la fermata programmata. Avvengono di sabato notte, magari se è ferragosto o capodanno, cioè quando tutti sono fermi, tutti sono chiusi, non trovi nessun fornitore che ti dà retta e quindi ti trovi con tutto l'impianto bloccato quando magari dovrebbe produrre al massimo. Di queste soluzioni un po' così arrangiate, che vanno molto di moda nella zona del nord Europa, dove ci sono tanti costruttori che si ritengono i migliori. Ne parlo a lungo nel mio libro. Ho scritto infatti un libro su ventilatori per alte temperature, il cui titolo è Forni da incubo. Dove trovi questo libro? Guarda su Amazon, cerca proprio Forni da incubo, oppure nel link qua sotto che trovi a questo video troverai l'indirizzo giusto per andare a prendere il libro. Ordina una copia, leggilo molto attentamente e fammi sapere cosa ne pensi. Mai più questi improvvisi, un saluto al Signore dell'Eventore. Grazie.